amici buongiorno innanzitutto una serena e tranquilla pasqua soprattutto sotto profilo metrologico è il migliore augurio che io possa farlo oggi è il giorno di pasqua il 31 di marzo e io mi sono messo in giro a cercare dormienti anche se in questa zona dove sono ora ci sono molte chiazze di neve ecco qua che qualcosa ho trovato questo è un gruppetto che avevo cavato poco sopra semplicemente per farvelo vedere diciamo per iniziare la raccolta dei dormienti e invece questo è decisamente molto più interessante guardate qua addirittura ecco questo è un notevole igrofono marzuolo e siccome si chiama marzuolo appunto essendo oggi il 31 di marzo sta rispettando il suo nome marzuolo da marzo questa era una mia promessa ve l'ho fatta comunque il terreno è molto umido ma ha piovuto troppo ora ci vuole qualche giorno di sole di temperatura più calda e avremo tanti di quei marzuoli da non sapere cosa farne ve l'avevo promesso e la promessa l'ho mantenuta vi ringrazio della vostra attenzione e vi do un bel saluto arrivederci a presto